Non solo raccolta differenziata, ma anche riduzione dei rifiuti, uso responsabile dell'acqua, consapevolezza del riscaldamento globale in atto e valore delle api nell'ecosistema. Temi ambientali che diventano vere e proprie materie scolastiche che in questo anno didattico saranno sui banchi di più di mille studenti pesaresi dalla scuola primaria al liceo. Una campagna di educazione ambientale che lega ambiente a Pesaro avviato da anni e che ora diventa ancora più strutturata grazie al nuovo accordo con marche multiservizi volto portare i giovani pesaresi a scuola di sostenibilità. Legambiente l'ha sempre fatto, è un lavoro che noi perseguiamo ormai da anni. Quest'anno abbiamo questi tre progetti, uno verte sull'acqua, l'altro sui rifiuti e l'economia circolare, il terzo sulle api, gli impollinatori e la biodiversità. Questi progetti quest'anno li facciamo in collaborazione con marche multiservizi perché così diamo la possibilità ai ragazzi che lo vogliono di visitare anche gli strumenti che marche multiservizi gestisce appunto quelli dell'acqua o quelli dei rifiuti. Noi riteniamo che solo attraverso la conoscenza ci può essere l'impegno dei giovani che sono il futuro, quindi sono quelli a cui probabilmente le scelte che noi abbiamo fatto e che oggi paghiamo con tante disgrazie, come vediamo continuamente, purtroppo loro le pagheranno più di noi. Quindi è giusto che sappiano anche per darci una mano a modificare questo stato di cose perché è possibile modificare se naturalmente ci impegniamo tutti quanti. Abbiamo la reale testimonianza che il clima sta cambiando, che il nostro territorio è anche vittima di un forte cambiamento e sensibilizzare i ragazzi e di conseguenza anche le famiglie che seguono le indicazioni delle nuove generazioni è un tassello importante di quella che è un'educazione che da sempre portiamo avanti come amministrazione. Nelle scuole dell'infanzia e nei nidi noi già facciamo educazione all'aperto ritenendo le tematiche ambientali fondatrici di quelli che sono i nostri valori educativi. Con questa iniziativa vogliamo ancora di più cercare di dare un messaggio, dare un contributo con una serie di strumenti che abbiamo messo a disposizione, con il nostro personale che insieme a quello dell'ambiente andrà nelle scuole, ma anche favorendo e spingendo per la visita dell'impiantistica, degli impianti gestiti da Marche Multiservizi. Perché noi abbiamo un bilancio che spesso viene evidenziato per i numeri positivi, ma quello che è altrettanto importante è il bilancio di sostenibilità che noi pubblichiamo, presentiamo e inviamo a tutti gli amministratori e stakeholder perché rendicontiamo quello che l'Europa ci chiede in termini appunto di raggiungimento degli obiettivi. Però questo non è sufficiente perché per raggiungere livelli ottimali di raccolta differenziata, in questo caso sto parlando di economia circolare in generale, ovviamente dobbiamo agire non solo sulla normativa ma anche sulla sensibilità. I bambini, i ragazzi delle scuole sono fondamentali perché poi trasferiscono concetti e pratiche anche all'interno della famiglia perché appunto al di là della metodologia con la quale si applica, si recupera la raccolta differenziata, la differenza oltre a un certo livello la fa appunto l'ossessibilità dei cittadini.